il coso e gg tu devi pensare al killer come killer non al fatto che conto solo su quella cosa lì come il giocatore di conflaggio che dice gioco solo quel personaggio allora sei un idiota non ci giocare allora qui abbiamo una cosa importante mi ricordo un altro che non ci sta adesso il che mi fa molto piacere allora rompo le porte qui abbiamo una formazione a delle 1 e 2 come vedi non sto usando l'armadietto adesso perché ancora ancora più di un armadietto e per 30 secondi farò casino guarda visto ancora ce l'ho un pull down Oh, no. Oggi abbiamo un furbo qua Oggi abbiamo un furbo qua Oggi abbiamo un furbo qua Senti come si fa il motore l'altro E mentre l'altro fa il motore E questa va sul gancio Adesso sono tutti feriti Eccolo qua Adesso vedo di nuovo il tizio che fa il motore Non posso leggere mentre gioco una combo purtroppo Però vi leggerò appena possibile Eccolo 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 Lanterna Provano Paura 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 Queste sono buffonate Ok Ok Tolti tutti i mississippi Lo posso riapendere adesso Forza Forza il pallet E gg Forza il pallet e gg Forza il pallet e gg Eccolo Allora La cosa del ferito più lontano La posso togliere Perché tanto non funge C'è abbiamo uno che sta chiudendo un generatore qua che vuole far morire l'amico Ah vabbè Lo facesse morire Che cosa dire Se lo vuole far morire lo fa morire Non è colpa mia No E' negative Andavidica salta l'altro Salta la finestra? Comeרא Mmm Questo e' buono Questo sono Ok è morta quella, di nuovo questa via Pagot due dietro magari urlate nessuno che urli posso tranquillamente metterla sul gancio non ci saranno Strano che non mi faceva vedere il ganso qua dietro Ho capito adesso quella cosa del fuoco e del fatto di stare in piedi la coda. Non ho bisogno di fare un cazzo, così. Adesso urlerà addirittura. Sono il migliore. Ah, si è rialzato l'altro. L'altro addirittura si è rialzato. Dai. Che cacchio fai? Vediamo un po'. Trovato. Il ferito l'ho visto. Eccolo qui. Destro. E' gg. Vedi? Come ti dicevo, se tu ti ricordi la combo... Ovviamente diventa il migliore. Adesso sai che facciamo? Facciamo un bel turno, perché ci siamo. Così per capire un po' il turno. E poi da qui come si fa? Così, così... Ma io posso uscire da dove il cavolo mi pare? No. Questo è adiacente a ogni generatore, se non lo sbaglio. E' una super combo alla fine. C'è un po' il turno. E' una super combo. Ok. E' una super combo. Ok. anche tu adesso puoi confermare il perché gli altri mi bannano perché quando io gli dico a loro guarda che quella per lì forse non c'entra niente con quello che stai cercando di fare ma in realtà loro non cercano di fare qualcosa cioè noi quando andiamo a vedere questi giocatori quelli che mi bannano soprattutto non stanno facendo un cavolo di niente stanno girando a buffo a calciare dei generatori inutilmente o sbaglio